A poco più di due mesi dalla 129esima edizione della giostra del Saracino, in programma sabato 20 giugno e dedicata al giorno della memoria, è arrivata un'importante novità in Casa Rosso Verde, l'addio del giostratore Carlo Farsetti. Una notizia che ha già aperto le riflessioni sul suo possibile successore e sugli scenari futuri del quartiere di Porta Crucifera. Credo che sicuramente la scelta più naturale sarà quella di optare per un ricambio generazionale, perché se con l'abbandono di Farsetti, quindi l'abbandono storico della coppia stellare che fu fatta a suo tempo con Vannozze e Farsetti, credo che ora la strada sicuramente che si sente anche vociferare in città è quella di dar spazio ai giovani, quindi di impostare un programma dove si possa far crescere dei giovani che poi dopo, in futuro, potranno andare a calcare la lizza. Quindi sicuramente adotteranno lo stesso criterio che è stato già adottato in passato per Porta Santo Spirito e Porta Sant'Andrea. È dunque da abbandonare la pista che proponeva Enrico Giusti come nuovo Cavaliere Rossoverde? Enrico è un giostatore che ha vinto, ha colpito il centro, è un giostatore di tutto rispetto, qualche anno che non è attivo in piazza, quindi ha lasciato il posto da titolare al suo vecchio quartiere di Porta del Foro. Sicuramente è un giostatore quotato, dipende la scelta che vorrà fare la nuova dirigenza del quartiere di Porta Crucifera, se tornare nuovamente su una lancia esperta e quindi che possa dare determinate caratteristiche, un affidamento su certe cose oppure se voltare completamente pagina, che questa forse potrebbe essere l'occasione giusta, quindi per rifondare una strategia di quartiere a livello di crescita del settore, chiamiamolo così, giovanile della cantera Rossoverde e impostare un programma più a lungo termine. Attualmente manca ancora molto ovviamente alla giostra, però si ripropone un po' la stessa panoramica, lo stesso scenario dell'ultima giostra con due quartieri più stabili e probabilmente poi ovviamente solo sulla carta più avvantaggiati rispetto a Colcitrone e Porta del Foro? Credo di sì, al momento credo che i valori che si sono avuti negli ultimi anni e lo scorso anno credo che ad oggi sulla carta siano identici.